Buongiorno a tutti, eccoci arrivati a questa nuova lezione nel quale parliamo di come non attaccare le pedine. I principianti pensano come negli scacchi che per attaccare un oggetto, in questo caso le pedine, un pezzo, basti andargli vicino e attaccarsi ad esso per cercare di drenargli più libertà possibile. Questo nel Go è quasi sempre sbagliato, cioè non si attacca in questo modo. Per attaccare nel Go, lo vedremo nella prossima lezione, bisognerà fare dell'altro. Però vediamo come mai questo approccio intuitivo è sbagliato. Supponiamo che il bianco cerchi di attaccarsi direttamente alla pedina per cercare di fregargli una libertà. Il nero ignora, per esempio. Se il bianco, vedete, cerca di circondare la pedina nera, abbiamo già visto in qualche altra occasione precedente che basta semplicemente estendersi e che si guadagnano immediatamente tantissime libertà. Ma supponiamo anche che per qualche ragione ci si opponesse anche in questo modo qui. Vedete che il fatto di continuare a insistere nel circondare le pedine direttamente porta comunque a un disastro perché vedete che immediatamente queste pedine ne hanno già subito tre di libertà. E se cerchiamo di insistere ancora, basta semplicemente estendere e questo praticamente non si può mai impedire. Proviamo ad attaccare qui, che ne so, allora estenderemo lì, proviamo ad attaccare di qua, estenderemo di là e sarà il bianco adesso a doversi preoccupare di difendersi. Come vedete attaccarsi direttamente non funziona nel go. Lo vediamo anche in questo caso qui sotto, vedete che abbiamo già visto nel joseki. Se per caso qui il bianco dicesse matto, gioco questa mossa qui perché così separo il mio avversario e anzi cerco di circondare questa pedina in modo da cercare di catturarla. Cosa succede? Il nero gioca questo, vedete si chiama cross cut questo qui e il bianco cosa deve fare? Si minaccia in una scala, cioè se il bianco gioca qui il nero cattura in una scala la pedina, controllatelo per esercizio. E se invece cerchiamo di estendere in modo da evitare la scala, cosa succede? Nessun problema, è il nero che ci mette in difficoltà perché quando noi ci attacchiamo automaticamente ci autolimitiamo le libertà. Vedete che il nero, che era già presente in questa situazione, è invece adesso lui in vantaggio rispetto al bianco che ha solo due libertà, mentre il nero ne ha tantissime. Cosa può fare quel bianco? Forse può cercare di contraattaccare sperando che il nero, che ne so, giochi qui e poi si vincerebbe. Purtroppo cos'è che succede? Succede che il nero non è stupido, non gioca questa ma gioca questa qui e adesso ci sono dei bei disastri per il bianco in arrivo. Vediamo quello più semplice. Beh, uno di questi potrebbe essere il tentativo disperato di accerchiare questa pedina. Nessun problema, estendiamo e adesso il bianco ha perso perché queste pedine sono completamente intrappolate. Vediamo infatti che se il bianco cercasse di strizzare queste pedine non c'è problema. Il nero gioca qui e queste pedine muoiono. Non c'è altro modo, difatti, per salvare queste pedine bianche. Cosa può fare allora un po' di meglio il bianco? Può forse giocare questa mossa qui. Un altro Atari, il nero estende. E cos'è qua il futuro del bianco? Il futuro del bianco è quello di strisciare sulla seconda linea. Strisciare sulla seconda linea è un modo come un altro per dire di perdere la partita. Cioè, come abbiamo visto in un altro Giosecchi, quello dell'invasione 3-3, quando si continua a strisciare sulla seconda linea, si utilizza un'unica pedina per guadagnare un misero appunto territorio e nel frattempo il nero, vedete che conquista un'ottima influenza, anzi sta minacciando di fare una scala in questo punto e quindi ci mette in grossissima difficoltà. Quindi ecco che abbiamo visto in tutte le situazioni che nel Go non si può mai attaccare attaccandosi direttamente alla pedina. Bisogna pensare a qualcos'altro. Lo vedremo nella prossima lezione. Arrivederci. Grazie.